Buongiorno a tutti e con grande e con grande piacere che avvio questa nuova edizione di Roma 3 incontro alle aziende, il primo incontro post covid o meglio durante il covid ma utilizzando le nuove tecnologie delle telecomunicazioni a distanza. Questo primo incontro vede il format di Roma 3 incontro alle aziende è sempre lo stesso, noi dal 2018 invitiamo le aziende più significative nei vari campi della imprenditorialità dove l'Italia è protagonista, invitiamo il top management di queste aziende ad avviare un colloquio con i nostri studenti e con i nostri colleghi. L'idea è quella non tanto o meglio partendo dalla realtà aziendale, dalla peculiarità dell'esperienza dell'azienda, chiediamo al top manager di anche condividere con noi la sua visione, un po' come posso dire al stile Apple. E così faremo anche oggi con il nostro ospite che è l'ingegner Franco Prampolini che è il head of public sector and defense di Atos Italia, una grandissima realtà impegnata nel digitale e come si diceva un tempo negli informati. Dico una sola parola prima di dare spazio alla collega Silvia Cicciovino che è stata l'idiatrice e il motore mobile di questa iniziativa e poi al collega Riccardo Borghi che ci darà i saluti istituzionali del Dipartimento di Ingegneria che oggi ci ospita. Ecco io voglio dire che mai come ora è molto importante il rapporto azienda università soprattutto qui nella regione Lazio perché dovete sapere due cose. La prima è che i dipartimenti di ingegneria delle università laziali in termini di pubblicazioni sia come numero sia come qualità e in termini di rapporti con le aziende in funzione, il numero dei contratti cosiddetti conto terzi non ha nulla da invidiare ai politecnici di Torino e di Milano. Questi sono numeri oggettivi che noi adesso stiamo elaborando perché con la regione Lazio vogliamo presentare un progetto da finanziare con Recoperi Fund per la creazione di un Roma Tecnopolo. Cioè il Tecnopolo a Roma dove i dipartimenti di ingegneria delle università romane fanno insieme squadra per offrire alla realtà produttiva della regione Lazio un ausilio, uno strumento fondamentale in tre transizioni. La transizione energetica, la transizione verso il biofarmaco e infine la transizione digitale e in questo noi speriamo che Atos sarà con noi in questo campo così importante, su questa strada così strategica e fondamentale per il futuro della nostra nazione. Detto questo do la parola a Silvia e poi chiederò a Riccardo di concludere i saluti istituzionali. Grazie, grazie mille Alessandro per questa piccola introduzione, anche io sarò molto breve. Porto il saluto di Roma 3, io sono particolarmente felice che siamo arrivati alla terza edizione di questo progetto di Ateneo Roma 3 incontra le aziende. Nonostante il Covid che ci ha fermato perché questi eventi ci piaceva farli in presenza proprio per il contatto anche umano che si stabiliva tra i nostri studenti e le grandi aziende invitate, e diciamo ci ha bloccato, ci ha sospeso per un momento. Abbiamo ritenuto di avviare comunque di nuovo il nostro ciclo di incontri proprio per dare un segnale significativo alla nostra comunità degli studenti. proprio in questo momento storico io penso, anche come giusti lavorista, non solo come prolettore, che sia particolarmente importante tenere vivi contatti tra le nostre giovani generazioni che stanno studiando e sono anche in uscita dai percorsi di studio e il mondo del lavoro. È un contatto che Roma 3 coltiva in varie forme, questo è un progetto di punta, siamo particolarmente contenti di ospitare Atos come prima azienda ospite del nostro ciclo Roma 3 incontra le aziende del 2021. Ringrazio molto anche il nostro partner, Comina e Patra, che ci aiuta nell'organizzazione di questi eventi, e quindi io sono qui semplicemente per introdurre e poi chiuderò il nostro incontro, soltanto per dare qualche piccola informazione su come si articolerà l'incontro, come di consueto avremo lo speech iniziale di Atos, che quindi parlerà ai nostri studenti. Mi auguro poi che gli studenti abbiano domande da porre, perché lo spirito di questi incontri è appunto quello di creare un dialogo, non certo di ricevere una lezione, quindi mi auguro che ci sia una partecipazione dei nostri studenti. Interverranno poi i responsabili delle risorse umane di Atos per dare anche loro un loro contributo, una loro testimonianza, un'interlocuzione con gli studenti per indicazioni, diciamo così, possono essere utili nel momento in cui i nostri studenti si interfacciano con il mondo del lavoro e si orientano appunto nella ricerca di un lavoro. Io sono qui poi anche a ringraziare il Dipartimento di Ingegneria, questo è un evento evidentemente rivolto a tutti gli studenti del nostro Ateneo, però per ognuno di questi appuntamenti abbiamo un Dipartimento, diciamo così, che ci ospita, va bene? Prima ci ospitava fisicamente, adesso ci ospita in altro modo, ma pur sempre ci ospita e quindi io sono felice che qui oggi venga a portare un saluto anche il Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria, che saluto. Grazie. Grazie a te Silvia e darei subito senza indugio la parola al Professor Riccardo Borghi per i saluti istituzionali. Prego Riccardo. Allora, buongiorno a tutti, grazie, grazie ai prorettori Silvia Ciucciovino e Alessandro Toscano per questa iniziativa, che in questo momento è veramente importante. Io vi porto i saluti del Direttore del Dipartimento, il Professore Andrea Benedetto, io sono il Vice Direttore per la Didattica, in questa lavagna qui dietro, lo ricordo, quindi mi occupo di didattica e quindi sono molto molto contento. Sono contento perché in questo momento ripartire da Ingegneria e soprattutto dai nostri studenti è qualcosa anche dal punto di vista simbolico piuttosto significativo. Quindi noi siamo molto contenti che abbiate deciso, che i nostri prorettori abbiano deciso di partire questi incontri da Ingegneria e sono molto contento che Atos Italia, che è un'azienda, come ha già detto Alessandro, insomma, è una delle aziende leader del settore, sia venuta qui a raccontare la propria attività. Io come professore del primo anno ho dato questa notizia ai miei studenti, anche se sono solo studenti molto giovani, sono studenti del primo anno, ma ho detto loro venite a sentire, venite a vedere quello che farete da grandi un giorno, perché è veramente importante, veramente importante soprattutto perché il ruolo dell'università è ben... ben specificato, insomma, noi facciamo formazione, portiamo persone che poi dovranno andare a interfacciarsi e soprattutto a dare il contributo al paese, che in questo momento è veramente importante. quindi è bene cominciare anche da piccoli, dal primo anno e fare domande e cercare di capire quella che poi sarà la realtà, una realtà lavorativa che ovviamente è piuttosto distante da quello che noi insegniamo nelle nostre aule universitarie, ma è giusto così. Noi facciamo il nostro lavoro e le aziende fanno il loro, quindi avere il punto di contatto è veramente importante. Quindi io non posso che darvi il benvenuto al nome del direttore del dipartimento, al nome di tutto il dipartimento di ingegneria, augurarvi buon lavoro e soprattutto dare un benvenuto all'ingegner Rampolini, che insomma ci racconterà quello che fa noi in Atos Italia. Bene, grazie. Grazie a te Riccardo, ti prego di portare anche i miei ringraziamenti al direttore, al professore Andrea Benedetto. Bene, detto questo do con grande piacere la parola all'ingegner Franco Rampolini per il suo intervento. Noi abbiamo previsto alle 11 la seconda parte del nostro incontro dedicato a un'interazione diretta degli studenti con il vostro reparto di risorse umane. Ciò non di meno ti puoi considerare libero di tenere tutto il tempo che vuoi per farci sapere, per condividere il tuo pensiero. Sei libero, quindi. Grazie. Buon lavoro. Prego. Grazie. Un saluto a tutti. Devo dire mi fa particolarmente piacere essere qui con voi perché queste occasioni di contatto con l'università sono per me sempre qualcosa di gradito. Anche perché come ricordavo prima, parlando con il professor Toscano, la mia carriera professionale ha proprio avuto inizio nell'ambito della ricerca. Dopo un'iniziale esperienza di dottorato entrai a quello che allora era il centro scientifico di IBM e nei miei anni, diciamo, iniziai di attività, si sono svolti nella ricerca. Ho avuto, diciamo, sempre in IBM la responsabilità come direttore generale di IBM SMA Sud, che allora era l'azienda di IBM che raccoglieva tutte le attività di ricerca di IBM in Italia. Quindi il mondo della ricerca e quindi di fatto il, diciamo, anche che ovviamente è collegato a tutto quello che è il contesto accademico, è sempre stato parte della mia esperienza, a volte che dei miei interessi, un po' mi ha accompagnato comunque in tutte le attività che poi successivamente ho svolto nella mia carriera professionale. Oggi in Atos Italia ho la responsabilità di due dei settori di industria su cui opera Atos e che sono il settore pubblico e l'altro è quello della sanità e del life science. Con life science di fatto si raccoglie tutto quello che è l'attività di ricerca, in particolare collegata al mondo della sanità, ma non solo, diciamo, tutta l'attività dei principali centri di ricerca italiano. Quindi anche questa volta, in questa mia attuale mansione, come spesso è successo nel mio passato professionale, questo elemento di attenzione alla ricerca permane con mio grande piacere. Perché penso che avere, diciamo, il contatto con questo tipo di realtà dà garanzia in qualsiasi contesto, diciamo, professionale e lavorativo di avere, di aiuta sempre e dà garanzia ad avere un occhio verso il futuro. E sempre verso il futuro bisogna guardare in ogni momento per, diciamo, per crescere nella propria attività professionale. Dico sempre che nel mio percorso professionale ho avuto sempre attenzione di chiedermi in ogni momento se stessi imparando qualcosa di nuovo, se in quello che stavo facendo c'era un elemento di sfida, nel senso di innovazione che bisognava arrivare a conseguire, di novità che poi poteva essere di qualsiasi tipo e quindi di, diciamo, di elemento di nuovo, di ricerca di qualcosa di nuovo, di innovativo nell'ambito di quello che stava facendo. Se stavo imparando qualche cosa, in altre parole, no? Imparare qualcosa che resta importante nella vita professionale di ognuno e credo che sia sempre importante chiedersi in ogni momento, anche, diciamo, avanti negli anni, se si sta imparando qualcosa. Se la risposta fosse negativa, credo che, diciamo, a quel punto ci si deve chiedere se davvero si è nel posto giusto, si sta facendo la cosa giusta o se la si sta facendo del modo giusto. Fatto questa, diciamo, introduzione più personale, vi parlo della mia azienda, di Atos, che è un'azienda che, diciamo, sicuramente è molto in sintonia con lo spirito che vi ho appena descritto di attenzione a quello che è il nuovo e a quello che è il futuro. Possiamo andare avanti, il nostro intervento si svilupperà in quattro parti. Nella prima vi racconterò, io vi darò un'idea di quello che è Atos. Poi vi parleremo in modo specifico di un progetto che stiamo facendo, che in particolare è seguito da una persona che poi conoscerete, che è, diciamo, da poco, relativamente da poco nel mondo della vita professionale, proveniendo da un'esperienza come quella che state facendo voi universitaria e che si è trovato, diciamo, a fare un progetto particolarmente innovativo e che quindi abbiamo avuto l'idea di farvi, diciamo, incontrare, oppure se digitalmente, questa persona per, così, affinché lui porti un'esperienza di come, per certi versi, quella che è l'innovazione, l'imparare il nuovo che si persegue nello studio o nel percorso universitario, poi può continuare anche nella vita professionale dentro un'azienda. Gli ultimi due interventi sono da parte delle nostre risorse umane che vi spiegano in modo più organizzato e strutturato come si lavora in Atos e anche come si può venire a lavorare in Atos. Quindi cominciamo, comincio a raccontarvi un po' qualcosa di Atos e iniziamo con un video. Grazie a tutti. Con questo video, questo video è riportato di fatto una serie di titoli che in qualche modo riassumono le aree su cui Atos è impegnata relativamente a quella che è la nostra attività nell'information technology. Sappiamo tutti che questo è un momento di sfide importanti. Possiamo andare comunque alla prossima slide. È un momento di sfide importanti perché, diciamo, è esperienza comune di tutti noi che questo fenomeno pandemico che stiamo stupendo, dal punto a però, diciamo, sta comportando anche degli stimoli importanti da tanti punti di vista. In particolare è, diciamo, l'esperienza quotidiana di tutti noi come sia di fatto stato un acceleratore molto importante nel percorso, nella crescita di digitalizzazione del paese Italia. L'Italia, da diversi anni, guardando alla situazione dell'Europa, si colloca sempre negli ultimi posti in termini di livello di digitalizzazione rispetto agli altri paesi europei. Purtroppo sono i numeri che ci dicono questo, ci vedono sempre oscillare tra il terz'ultimo, penultimo, quart'ultimo posto. E forse la pandemia è stata la scossa che ha smosso diverse inerzie, pur, diciamo, nella disgrazia che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario, sociale, anche per molti aspetti economico, però ci sta spingendo a reagire ad andare avanti. E questo andare avanti si colloca in un contesto di Europa che sta guardando a come andare avanti e sta provando a rilanciarsi. Siete tutti sicuramente consapevoli e conoscete il tema del Next Generation Plan, rispetto al quale il governo italiano sta mettendo a punto il piano per l'Italia. Ecco, questa sarà, si dice da più parti, un'occasione importantissima da cogliere e quindi questo è veramente un momento che può vederci i protagonisti di una trasformazione che poi alla fine andrà a coinvolgere in prima persona proprio voi. Non è un caso che si chiama Next Generation Plan, è un futuro che in questo momento si deve cominciare a disegnare e cominciare a realizzare e di cui voi potete essere i protagonisti. Atos vive molto questa, diciamo, questa esperienza perché è un'azienda europea. È un'azienda europea non solo perché, come vedete qui, circa il 70% dei nostri più di 100.000 dipendenti è localizzati in Europa, ma anche per ragione sociale, cioè non siamo una società italiana, francese o cos'altro, siamo di ragione sociale europea, proprio a, diciamo, indicare il, diciamo, lo spirito con cui è nata questa azienda. Siamo presenti in 71 paesi al mondo, ci sono mercati che per noi sono importanti, sicuramente in modo rilevante, come il Nord America, il Sud America stesso, l'Asia, però il nostro focus è sicuramente, sicuramente l'Europa. Siamo la prima azienda di information technology europea. E tra l'altro quello che era il nostro CEO fino a tre anni fa, Ribreton, è oggi il commissario europeo per l'innovazione. Quindi siamo, ci siamo di fatto molto dentro a questo fenomeno di spinta europea verso il futuro, che sicuramente dovrà fare molto leva sulla, molto leva sulla tecnologia. Come vedete abbiamo un fatturato anno di 11 miliardi di revenue e spendiamo per la ricerca, e su questo poi torneremo con un approfondimento, 235 milioni l'anno. In Italia, diciamo, chi siamo e cosa stiamo facendo? Allora, Atos in Italia è nata nel 2011, quindi c'era stata prima, poi diciamo quella che era l'Atos di allora, che si chiamava Atos Origin, fu venduta a Engineering. Per un certo numero di anni Atos è scomparsa dall'Italia, è tornata, è stata ricostituita nel 2011. Oggi siamo 1.500 persone in Italia, un numero, diciamo, non piccolo, ma sicuramente inferiore a quella che è Atos negli altri paesi europei e negli Stati Uniti, dove il numero di dipendenti è superiore ai 10.000 persone. Però Atos ha proprio l'obiettivo strategico di una crescita in Italia, essendo l'Italia un paese fondamentale anche nel contesto europeo, per cui la presenza di un'azienda come Atos non può non diventare sempre più rilevante. Per raggiungere questo obiettivo stiamo crescendo, ogni anno, negli ultimi anni abbiamo assunto circa 200 persone, è successo anche l'anno scorso, in piena pandemia abbiamo assunto 200 persone, senza tra l'altro usufruire di nessun contributo dal punto di vista, nessun contributo pubblico. E' una cosa importante senza licenziare nessuno, perché ci sono aziende che dichiarano assunzioni, ma nello stesso tempo diciamo licenziano magari più lavoratori di quelli che stiamo assumendo. No, noi stiamo assumendo perché diciamo siamo in crescita, vogliamo crescere, abbiamo un obiettivo di crescita importante che ci vede impegnati in questo senso anche nei prossimi anni. Oltre a assumere persone stiamo anche ampliando la nostra presenza. Il mese scorso abbiamo annunciato l'apertura di una nuova sede a Bologna, oltre alle quattro che già abbiamo, che sono localizzate a Milano, Roma, Napoli e Brescia. Come vedete siamo oggi organizzati per settori di industria, ve ne ho già citati due, quelli di cui mi occupo in prima persona e ce ne sono altri quattro che corrispondono a quella che diciamo è la vista di attività, la vista del mercato tipica che sono il settore del manufacturing, quello dei servizi finanziari, quindi banche e assicurazioni, il settore delle telecomunicazioni e dei media e infine quello del resource e servizi che raccoglie tutto il mondo delle utilities, il mondo dei trasporti, tutto il mondo diciamo che ha come attività il fornire servizi. Questi sono i mercati in cui ci muoviamo, come andiamo su questi mercati? Ecco tipicamente lavoriamo sui grandi clienti, questo è una connotazione tipica di Atos a livello globale e cioè siamo concentrati sull'attività per le grandi realtà. Questi sono i nomi dei nostri clienti in Italia, ecco tipicamente non ci occupiamo di, anche in realtà in cui Atos è più grande diciamo numericamente, più significativa come numero di dipendenti, siamo comunque, abbiamo un'attività che comunque è sempre concentrata sulle grandi realtà. Questa è una scelta strategica che poi determina anche il tipo di attività, il tipo di offerta che noi portiamo sul mercato. Come vedete diciamo anche nel caso dell'Italia, pur essendo presenti da poco, abbiamo diciamo nel nostro portfoglio clienti, posso dire tutte le realtà più significative del contesto economico italiano. In particolare in Italia Atos ha alcuni settori di leadership, uno per tutti sicuramente quello dell'energy utilities, anche perché quando fu ricostituita Atos in Italia nacque da quello che è stata la fusione tra la parte dei servizi di information technology dell'allora Siemens con Eutile, che era l'azienda IT di A2A Utility. Lombarda. Vi racconto che cosa facciamo, diciamo che tipo di presenza abbiamo presso questi clienti. Ecco, cerchiamo, abbiamo una presenza che è molto orientata a lavorare su quello che è nuovo. Anche questa è una, diciamo, un qualcosa che nasce un po' dal nostro background che ha radici importanti nell'attività di ricerca di cui parliamo dopo. Se vogliamo, nel contesto italiano corrisponde anche una strategia, nel senso che quando ci siamo riproposti sul mercato italiano partendo praticamente da zero, abbiamo puntato a quelle che diciamo ad avere una presenza di contenuti più innovativi sulle aree più nuove. Perché rispetto a quelle che sono tematiche e attività di tipo più tradizionale, per le quali trovavamo un mercato già presidiato in modo importante da altri attori, da altri protagonisti, chiaramente competere sul nuovo, oltre che essere diciamo più stimolante, lasciate usare il termine anche più divertente, è qualcosa che fa, sulla quale si parte di più alla pari, no? Cioè non ci sono, diciamo così, non ci sono posizionamenti in tanti casi predefiniti, ci sono nuove sfide in cui ci si confronta direttamente su chi è migliore, chi è più bravo, chi è più contenuti nel fare le cose. Per certi versi, avendo i contenuti per farlo, è più facile competere su ciò che è nuovo rispetto sui terreni tradizionali dove magari ci sono occupazioni, presidi che magari, soprattutto in un contesto italiano, che molto spesso è più statico rispetto ad altre realtà, alla realtà di altri paesi in cui magari c'è un livello di, diciamo, di maggiore, lasciate usare il termine, anche competizione aperta, in Italia, in tanti settori, diciamo, sappiamo bene che abbiamo un'economia un po' statica, in cui si vive un po' di rendita rispetto a certi posizionamenti, ecco, su quando si parla di cose nuove è più facile, diciamo, proporsi alla pari con gli altri. E vi do una carrellata, facendo riferimento ai settori di cui parlavo prima, di che cosa stiamo facendo. Sulla parte di, diciamo, di live science e altro, è importante segnalare quello che Atos sta facendo nell'high performance computing. L'anno scorso abbiamo, diciamo, vinto un contratto con Cineca, Cineca è un consorzio universitario localizzato a Bologna, e che ha acquisito Datos quello che sarà, che è, anzi, il super computer più potente in Europa, e il secondo al mondo, e comunque in termini di super computer attivo sull'artificial intelligence, il più potente al mondo. Anche Leonardo, la società Leonardo, ha scelto la tecnologia high performance computing di Atos per realizzare il suo laboratorio di innovazione localizzato a Genova, che sta, diciamo, adesso mettendo in piedi e che fornirà, nasce per fornire innovazione a tutte le divisioni di Leonardo S.P.A. Ecco, questo, questa, diciamo, importante, Atos, al di là di quello che ha fatto, diciamo, in Cineca, è assolutamente un leader mondiale su questa tematica dell'high performance computing, e lasciatemi dire, è un, anche questo è un punto importante di affermazione di quella che è un'identità europea, di quella che è un, diciamo, anche una presenza del mercato globale, diciamo, nel mercato internazionale, di una tecnologia europea che ha sempre più bisogno di, insomma, farsi valere nei confronti di tecnologie di altri continenti che purtroppo spesso in passato, per così dire, l'hanno fatto un po' da padrona, anche a volte con conseguenze un po' pericolose. Vengo al secondo tema che è quello del cloud, diciamo, sul cloud siamo attivi in diversi iniziativi in Italia, stiamo, dal punto di vista, diciamo, dell'attività ingegneristica, fornendo le competenze a Team, a Telecom Italia, che ha fatto un accordo con Google per realizzare, diciamo, un cloud che avvalendosi della tecnologia, diciamo, di Google, metterà a disposizione però nei data center di Team il cloud italiano. Ecco, con il nostro ruolo è quello di operativamente mettere in piedi tutto questo. E sul cloud cito un tema che si chiama Gaia X, che è un punto importante. Nel 2018 gli Stati Uniti emisero il cosiddetto Cloud Act, che imponeva e impone tuttora tutte le aziende americane di mettere a disposizione, dietro richiesta, qualsiasi dato loro stessero, per così dire, o loro stiano usando o gestendo, diciamo, come servizio di chiunque. Questo potete benissimo capire che dal punto di vista dell'Europa, degli Stati europei, dell'Europa stessa, è stato letto come un momento di potenziale grandissima vulnerabilità dei nostri dati sensibili o meno, no? dati sanitari, dati di, diciamo, di, in qualche modo, di potenziale interesse industriale. L'Europa ha reagito con un programma che è partito di cloud europeo e di cloud nazionale e soprattutto è nata la fondazione Gaia X, che sta definendo un modello di cloud europeo che è conforme a quelle che sono le normative di data privacy e di cyber security dell'Unione Europea. Atos è l'unico system integrator socio fondatore di questa iniziativa Gaia X e in questo ruolo siamo, diciamo, tra i promotori di questa iniziativa e coloro che in qualche modo ne vanno a definire i contenuti, pur chiaramente recependo i contributi che da qualsiasi altra realtà economica, tecnologica, accademica possano pervenire. E quindi comunque, vi allo sottolineo, perché è un impegno di, diciamo, di innovazione importante nell'area del cloud, che è uno dei grandi filoni di crescita e di trasformazione digitale attestati anche da quello che si comincia a sapere, sarà il piano, il recovery plan nazionale a fronte del, diciamo, degli investimenti possibili nell'ex generation plan. Altra area di attività è quella dell'intelligenza artificiale e la robotica, poi di questa parlo poco perché sarà oggetto della presentazione specifica che verrà dopo, che vi spiega, vi racconta quello che stiamo facendo in qualcosa che si chiama Intelligent Hyper Automation, che sostanzialmente significa utilizzare strumenti di automazione per trasformare digitalmente i processi operativi, introducendo al massimo una robotica, un'automazione dell'operatività guidata dall'intelligenza artificiale. Un altro tema importante è quello del posto di lavoro digitale, anche qui, anche in Italia, su questo abbiamo una progettualità importante, gestiamo per esempio i posti di lavoro di Enel in tutto il mondo, gestiamo i posti di lavoro di una realtà, anch'essa internazionale come generali. Un altro filone è quello della Customer Experience. La Customer Experience sta diventando uno dei temi centrali anche nell'Information Technology, in cui sempre più bisogna partire da quella che è l'esperienza dell'utente finale, di qualsiasi cosa, che l'utente sia il fruitore di un servizio commerciale o che sia una controparte di business o che sia un cittadino che ha a che fare con i servizi messi a disposizione dallo Stato, è sempre importante partire dal punto di vista, nel progettare le cose, partire dal punto di vista di chi questi servizi, diciamo, deve fruire, in modo da poterli progettare nel modo migliore, ottimizzato possibile, dal punto di vista di chi, non di chi li deve fornire, ma di chi, diciamo, li deve fruire, da chi li deve utilizzare. Ultimo punto è quello dell'Energy Utilities, qui c'è una tematica energetica sulla quale anche tornerò più avanti, che vede Atos molto impegnata anche sul tema del green e della decarbonizzazione. Vi ho raccontato che cosa fa Atos, dandovi alcuni flash di aree e di attività, quello che vi ho detto sono comunque, diciamo, come ho appena usato il termine flash, veramente delle, così, dei rapidi, dei rapidi, così, delle rapide viste, di quella che è un'attività che in realtà è più strutturata, copre tutti i campi di attività che tipici dell'Information Technology, e quindi trovate in questa slide altri titoli non citati, diciamo, nella slide precedente, c'è chiaramente in prima battuta, siamo attivi in tutto quello che è il mondo dello sviluppo applicativo, che per i sistemi, diciamo, di molte realtà aziendali, per esempio aziendali pubbliche, private, utilizza la tecnologia SAP, ma non solo. Ovviamente, come vi dicevo, siamo molto attivi nella realizzazione di soluzioni cloud, anche nella trasformazione di quello che oggi non lavora, come si dice, on-premise, quindi localmente, in, diciamo, trasformarlo per portarlo su cloud, che non è semplicemente un trasferire la progettualità, le applicazioni da, scusate, non è semplicemente trasferire l'applicazione di progettualità da una, diciamo, da un contesto locale a un contesto remoto, ma che implica tutto un modo diverso di lavorare e di gestire sia le piattaforme, sia le applicazioni stesse, soprattutto di utilizzare quelli cosiddetti microservizi che i diversi cloud provider mettono a disposizione per ottimizzare le applicazioni, una volta che queste sono appunto, sono state realizzate per una fruizione tramite cloud. Oltre a questo, vedete che siamo attivi in altri contesti, come quello dell'Internet of Things, che è un altro, diciamo, un'altra sfida importantissima, che in modo a volte inaspettato sta riguardando diversi settori, e Internet of Things non significa solo, diciamo, utilizzare, orchestrare l'attività di cose, di oggetti messi in comunicazione tra di loro. Tra l'altro, penso che sappiate che oggi al mondo sono connessi molti più oggetti di quante siano le connessioni tra gli umani. Diciamo, abbiamo circa 3 miliardi e mezzo di umani connessi, abbiamo quasi 8 miliardi di oggetti connessi. C'è chi dice che se un alieno dovesse arrivare, dovesse arrivare, diciamo, sulla Terra, e monitorando quello che succede, decidere con chi mettersi in contatto, potrebbe essere più probabile che l'alieno decida di contattare una lavatrice, piuttosto che un essere umano, vedendo il tipo, diciamo, di connessioni, ho detto lavatrice, chiaramente è un po' un paradosso, però intendevo dire, per esempio, un elettrodomestico o una televisione stessa, no? Che oggi è molto connessa come Smart TV, rispetto a, diciamo, a un umano stesso. Quindi è un mondo sommerso rispetto a quello che vediamo, ma estremamente importante, e che sta crescendo come orizzonte di progettualità, di soluzioni applicative, proponendo sempre nuove sfide. Una di queste sfide è quella di avere sicuramente a livello centrale potenze elaborative importanti, vi citavo prima per esempio i super computer come quello del Cineca, che però devono lavorare insieme a una potenza elaborativa, invece distribuita in periferia, attraverso quello che è il cosiddetto edge computing, in una sincronicità virtuosa tra, diciamo, le due architetture. Queste, come vedete, sono nuove prospettive tecnologiche, ma non solo, perché tutto parte, come vi dicevo prima, tutto deve partire dalla customer experience, dalla user experience, da capire cosa serve e come serve all'utilizzatore finale delle mie soluzioni, e in base a quello poi realizzo una progettualità che sfrutta al meglio le potenzialità che la tecnologia mi fornisce. Ecco, questo siamo impegnati ogni giorno a fare nelle attività che svolgiamo. Vi parlavo prima del nostro DNA di, diciamo, di innovazione, e questo si esplicita in diverse iniziative all'interno di Atos. Abbiamo una comunità scientifica che, in una vita di comunità che scambio di conoscenza reciproca, aiuta a indirizzare le strategie di Atos. abbiamo una comunità degli esperti, chiaramente poi suddivisa in diverse sottocomunità, sempre in contatto tra di loro, e chiaramente stiamo parlando di comunità che esistono a livello globale, e che anche qui, condividendo le proprie conoscenze, le proprie competenze, fanno crescere il knowledge, la conoscenza all'interno dell'azienda. Abbiamo delle strutture di laboratorio e di centri di innovazione in cui lavoriamo di nostro sulle aree innovative, ma lavoriamo anche in collaborazione con i clienti su queste stesse aree, accompagnandoli su quelli che sono i loro progetti di innovazione e i loro obiettivi di innovazione, costruendo insieme le soluzioni per conseguirla. Abbiamo poi un'area di attività specifica rispetto al quantum computing. Ecco, su questo, diciamo, il quantum computing è un'altra area su cui come passo di evoluzione dei super computer Atos è impegnata, stiamo lavorando alla realizzazione di un quantum computing. Nello stesso tempo, oggi, abbiamo realizzato un ambiente che consente di fare programmazione, diciamo, quantistica, su un, quindi programmare, scrivere dei software, scrivere dei codici, diciamo, secondo i canoni della programmazione quantistica, facendoli, diciamo, girare su quello che invece è un'infrastruttura, un computer tradizionale, quindi sostanzialmente un emulatore, come si dice, di computer quantico. Con la sicurezza che una volta che ho costruito il codice, l'ho provato, l'ho testato, l'ho sviluppato sul computer tradizionale, un domani, quando avrò a disposizione il computer quantistico, la mia applicazione potrà comunque girare sul nuovo ambiente. Questo, tra l'altro, è qualcosa che già si può fare, perché comunque, insieme a quest'ambiente, possiamo mettere a disposizione, in cui sviluppare il codice, possiamo mettere comunque a disposizione anche del, chiaramente, qualcosa che oggi è disponibile solo a livello sperimentale, prototipale, però un vero e proprio quantum computing. Chiaramente operare in questo modo al vantaggio di poter fare i miei sviluppi su questa che chiamiamo quantum learning machine sul computer tradizionale, quindi anche, diciamo, su qualsiasi piattaforma, contesto io abbia, con, diciamo, senza avere la disponibilità necessaria di un quantum computing, e poi magari fare i test che, diciamo, provare, fare la prova finale dopo che tutto funziona sulla macchina, su quantum computing. Chiaramente l'ultima prova è oggi più, è meno disponibile ed è molto onerosa economicamente, quindi, diciamo, il poter fare tutta questa attività, diciamo, in anticipo su piattaforme tradizionali mi aiuta da un punto di vista, diciamo, economico a risparmiare e nello stesso tempo comunque a poter sviluppare la mia competenza su quella che sarà una tecnologia fondamentale per il futuro. In questa attività di innovazione comprendiamo anche i cosiddetti T-challenge che in genere facciamo insieme ad altre aziende partner. Sono delle giornate in cui invitiamo, diciamo, chi vuole partecipare, ovviamente in particolare sono rivolte a, diciamo, a studenti universitari, a fare le loro proposte di innovazione su aree specifiche. Abbiamo, ne abbiamo da poco fatta una in collaborazione con la SAP e chiaramente le sfide sono, in queste sfide si propongono, diciamo, degli argomenti, si danno gli strumenti per realizzare le idee che le persone possono avere e poi alla fine c'è un giudizio e un premio per quelle che sono le idee giudicate più interessanti. Ecco, vi avevo anticipato che avrei detto qualcosa sulla ricerca e sviluppo. Atos, come vi dicevo, è molto attiva in quest'area. abbiamo diversi centri di ricerca, siamo l'azienda che ha il maggior numero di progetti finanziati dall'Unione Europea e progetti finanziati che riguardano le aree più disparate che, diciamo, ci vedono impegnati a volte, diciamo, per conto nostro in collaborazione con l'Università e con, diciamo, altri istituti puramente di ricerca, a volte anche impegnati insieme a quelli che sono dei nostri clienti partner, tutto questo sempre su, molto spesso, per quello che riguarda, diciamo, ovviamente i progetti europei, inevitabilmente in squadre che vedono, diciamo, ci vedono partecipare con realtà di altri paesi. naturalmente oltre che, diciamo, ai progetti sviluppati in contesto europeo ne abbiamo anche alcuni che sono stati sviluppati e che stiamo sviluppando relativamente alla realtà italiana. Come vi dicevo, questa della ricerca è sicuramente, questa attività di ricerca è certamente il carburante essenziale per l'innovazione che poi alla fine portiamo sul mercato. È un'immagine, direi, plastica e molto concreta quello che è la, diciamo, tecnologia Atos dell'High Performance Computing dove, diciamo, parlando in quel caso di un hardware si tocca con mano il contenuto di innovazione che comunque in realtà non è fatto solo, diciamo, di hardware ma attorno anche una competenza di progettualità importante perché anche quell'area lì è sostenuta da centri di competenza specifici che per le diverse aree sviluppano attività di ricerca e anche di progettualità con i clienti che sfruttando le potenzialità della tecnologia HPC la usano quello che oggi è il, diciamo, sicuramente sempre la frontiera che viene abilitata dall'HPC. parlavo prima dell'intelligenza artificiale per l'intelligenza artificiale il supercomputing oggi è quello che può veramente far fare il salto di qualità sta consentendo una sorta di next generation dell'intelligenza artificiale che sta smarcando chi fa intelligenza artificiale da quello che è un pochino oggi il paradigma che è dettato da quelli che sono i servizi di intelligenza artificiale che sono messi a disposizione dai cloud dei grandi cloud provider internazionali e quindi chiaramente i vari Microsoft Amazon Google e così via all'interno delle cui piattaforme ci sono dei servizi di intelligenza artificiale avanzati ma che alla fine sono gli stessi per tutti e quindi diciamo consentono sicuramente di fare intelligenza artificiale ma alla fine standardizzando un po' anche il risultato con il supercomputing invece con la possibilità che il supercomputing dà di correlare un numero stratosferico di informazioni è possibile creare veramente nuovi modelli di intelligenza artificiale che oggi cominciano a trovare applicazioni in diversi settori lasciatemi dire che il risultato che si strabiliante che si è avuto sui tempi di conseguimento dei vaccini hanno visto in modo importante l'applicazione di queste tecnologie abbiamo avuto di recente il CEO di Moderna partecipare a un nostro evento noi con Moderna abbiamo diciamo collaborato in questo discorso diciamo dello sviluppo del vaccino Moderna era una piccola start-up alla fine estremamente voluta dal punto di vista digitale il vaccino di Moderna è stato totalmente costruito in modo diciamo tramite a partire da dei partner che loro avevano diciamo studiato in passato che davano delle similitudini del COVID-19 rispetto ad altre malattie di fatto il vaccino è stato totalmente costruito in digitale e praticamente non hanno usato i laboratori come diciamo si fa classicamente solo ovviamente nell'ultima fase nella fase diciamo sperimentale hanno sperimentato diciamo in modo inevitabile con usando diciamo quelli che sono le procedure chiamiamole di laboratorio fisico ma tutto il vaccino è stato studiato sviluppato in pochissimi mesi attraverso simulazioni digitali che chiaramente hanno richiesto della potenza computazionale importantissima per correlare un numero rilevantissimo di dati ecco vi racconto anche le olimpiadi Atos da una ventina d'anni è partner del comitato olimpico internazionale e forniamo la diciamo l'information technology necessaria a supportare l'evento olimpico tra questo oltre a essere diciamo qualcosa così dire colorato divertente come come attività è anche una sfida tecnologica importantissima vi cito solo questo chiaramente le olimpiadi sono un un palcoscenico prima di tutto sportivo che sono un palcoscenico comunque globale nel momento delle olimpiadi l'attenzione del mondo c'è tutto il mondo che guarda quello che succede alle olimpiadi capite bene che per un hacker per esempio riuscire a avere successo in contesto olimpico fare andare a pallino qualche cosa significherebbe veramente un titolo olimpico per l'hackeraggio conseguire un risultato con visibilità assoluta mondiale globale e quindi le olimpiadi tipicamente oltre a offrirci l'occasione per presentare diciamo la frontiera tecnologica da tanti aspetti come quello del multimedia sono sempre una grandissima sfida sulla cyber security una sfida in cui diciamo non si possono fare troppe prove prima perché l'evento succede in quel momento non è ripetuto non è ripetibile non si può fallire e che diciamo è soggetto è veramente diventa un'olimpiade anche per tanti altri potenziali protagonisti come gli hacker stessi per darvi un'idea nelle ultime olimpiadi abbiamo sono stati ricevuti più di 5 milioni di attacchi giornalieri quindi sono hanno costituito veramente una e questa è una cosa che va incrementando di diciamo di edizioni in edizione delle olimpiadi un evento anche una sfida anche dal punto di vista tecnologico estremamente significativa tema vi accennavo prima il green Atos è molto impegnata nella tematica green crede molto nello sviluppo di tecnologie diciamo in un progresso che diciamo vede il il discorso ambientale e in particolare il tema della decarbonizzazione come qualcosa che non non nega in generale il progredire e che può essere fortemente abilitato di nuovo dall'utilizzo del digitale dall'utilizzo di un certo modo del digitale come azienda sapete che l'Europa ha preso l'impegno di ridurre a zero le emissioni entro il 2050 come azienda ci siamo presi lo stesso impegno di arrivare a zero emissioni entro il 2028 e questo è qualcosa che ci diciamo per noi è un impegno da un punto di vista etico e civile e nello stesso tempo è qualcosa che nel fare per noi nell'avere per noi questo tipo di attenzione di impegno di iniziativa ci sta consentendo di imparare a come fare le cose per poi farle magari insieme anche i nostri partner ai nostri clienti nel fare tutte le cose che vi ho raccontato non lavoriamo da soli lavoriamo in collaborazione innanzitutto con quelli che sono i nostri clienti e che ci piace chiamare anche partner per quello che facciamo perché tante volte ci accompagnano in sfide di innovazione in cui per loro le cose vengono fatte la prima volta fare una cosa la prima volta non significa solo prendersi una sfida dal punto di vista tecnologico ma sempre significa anche prendersi una sfida dal punto di vista del modo in cui faccio le cose quindi succede che io devo per realizzare diciamo per fare questa trasformazione non devo solo usare nuove tecnologie ma devo cambiare il modo in cui lavoro il modo in cui opero i miei processi di business i miei processi operativi e quindi sono sfide diciamo importanti ecco detto questo chiaramente poi per realizzare le cose non si parte da zero si usano piattaforme prodotti di chi vende di chi porta queste cose sul mercato fare questo significa però dal nostro punto di vista avere le conoscenze e le competenze per farlo quindi una cosa che anche si impara lavorando in information technology è di acquisire le competenze specifiche su come certi prodotti che ci servono sono fatti su come funzionano su come possono essere utilizzati e anche su come andranno ad evolvere perché bisogna sempre e comincio come finisco come ho cominciato la mia il mio intervento bisogna sempre guardare al futuro guardare al futuro significa sapere un po' in tutte le cose che faccio non solo la realtà di oggi ma anche avere un'idea di quella che sarà la realtà di domani con questo finisco e ci sarà la fine di tutta la sessione Ato su un momento di domanda e risposta però se c'è qualche domanda che volete farmi già adesso sono qui pronto a rispondere grazie mille ingegnere io ce l'avrei una domanda ce l'avrei una domanda poi gli studenti possono utilizzare la chat eventualmente per porre delle domande anche adesso o dopo abbiamo visto nella sua presentazione peraltro complimenti a questa realtà veramente globale che siete presenti in 71 paesi mi sembra e avete la maggioranza però dei dipendenti localizzati in Italia o in Europa quindi in Italia mi sembra il 70% no in Europa in Europa questa scelta insomma di localizzazione immagino che abbia alla base anche delle valutazioni generali di carattere economico sociale come reputa appunto la localizzazione per un'impresa come fattore strategico anche nella gestione del fattore umano e l'Europa diciamo è un luogo di lavoro che ci conserva un vantaggio competitivo sotto vari punti di vista rispetto ad altri paesi europei o no cioè dico molte altre aziende fanno delle scelte di delocalizzazione in paesi anche molto lontani mi sembra che invece la vostra scelta sia esattamente contraria e quindi da questo punto di vista se ci può dire due parole insomma quali sono i valori o le idee che hanno ispirato questa scelta anche di business è corretto sì allora è una scelta che è una strategia e che nasce da appunto da una da una volontà di puntare sull'Europa per esempio la tecnologia del super computing dell'HPC che di cui vi ho descritto è totalmente prodotta in Europa e è anche supportata da centri di competenza di ricerca tutti localizzati in Europa quindi diciamo che questa identità europea fa parte veramente del nostro DNA il fatto che sia stata fondata ATOS non come società francese o tedesca ma con ragione sociale europea indica che fin dalle origini c'è stato questa scelta di puntare sulla realtà dell'Europa variegata ricchissima sappiamo che siamo un continente che è fatto di tante culture che hanno fatto la storia dell'umanità crediamo molto in questo crediamo molto nella diciamo capacità generativa in termini di idee che esiste nel contesto europeo e questo è diventato anche una diciamo una scelta come giustamente diceva lei anche etica e sociale nel senso che per esempio siamo un'azienda che diciamo molto difficilmente e recentemente in nessun caso anche in questi ultimi difficili anni è ricorsa a provvedimenti di diciamo licenziamenti diciamo di massa a parte il caso italiano è molto virtuoso perché siamo veramente in crescita quindi diciamo licenziamenti anzi noi abbiamo il terrore di perdere risorse quindi stiamo vivendo un momento molto particolare ma anche negli altri paesi a fronte di difficoltà importanti come quelle che sono verificate l'anno scorso c'è anche un po' questo impegno sociale di sentirci di sentirci voler essere protagonisti di una realtà che è quella europea che è una realtà non solo di tecnologie ma anche una realtà non solo diciamo economica ma anche una realtà sociale sicuramente ecco ciò non toglie che dicevo prima per esempio il Nord America è il nostro secondo mercato diciamo che il Nord America nella sua totalità è un mercato che comunque ci dà un fatturato che è superiore a questo se prendiamo i singoli paesi europei non ce n'è uno che ha un fatturato superiore a quello che Atos fa in Nord America così come abbiamo comunque diciamo una presenza importante in Asia del numero di dipendenti che avete visto sono localizzati circa 30.000 quindi diciamo anzi no 25.000 adesso comunque diciamo siamo una realtà globale però l'Europa è veramente è il nostro DNA quindi questo è sicuramente lo confermo in pieno con tutto quello che questa che questa posizione questa scelta comporta ha comportato volevo solo ricordare Silvia se posso che noi siamo per compatibilità con gli orari dei nostri studenti chiamati un po' a finire questo evento intorno alle 11.30 sarò celerissima grazie mille innanzitutto mi presento in modo rapidissimo Cristina Rangone Aerial Manager di Atos quindi responsabile della selezione e anche HR Business Partner di alcune industrie di alcune practice allora in modo veramente cedere per poter dare poi l'opportunità ai ragazzi di farci delle domande vi racconto un pochino quello che sono i valori di Atos quindi dal punto di vista più lato HR e qual è il processo di selezione per essere inseriti da noi poi resto ovviamente a disposizione per le domande allora qua abbiamo voluto focalizzarci su alcuni valori per noi assolutamente di interesse diversity e inclusion cosa vuol dire banalmente per ogni per ogni essere umano maschile che è in Atos si cerca di far entrare anche una fanciulla questo non a sorta di quota rosa ma perché l'idea è quella di avere un clima più armonico che si riesce a ottenere assolutamente con dei team costruiti da sia da ragazzi che da ragazze per cui l'idea è quella di inserire sia tante fanciulle sia diversity tutto ciò che può essere una qualche tipo di differenza di discrepanza ben venga per cui assolutamente sì all'inserimento di persone magari non necessariamente italiane sia alla job rotation con le altre country per cui c'è proprio l'idea di di un'inclusività se poi volete ci torno ci torno sopra bene essere allora tornando a ciò che diceva Franco cultura europea la differenza grossa con alcuni dei nostri competitor non faccio volutamente nomi è il fatto che da noi ci sia un clima aziendale sereno sicuramente molto richiedente come contesto ma non è non è il posto in cui si viene strizzati come limoni e lasciati al suolo di sera ecco c'è ancora una sorta di work life balance in cui la life esiste non c'è solo work e si sta bene nel senso c'è un buon clima c'è proprio un buon clima questo perché la matrice appunto è europea e c'è forte interesse al fatto che le nostre risorse stiano bene all'interno dell'azienda non abbiamo macchine noi abbiamo delle persone quindi le persone fanno fanno poi la differenza dal cliente allora velocissimamente come accennava prima l'ingegner per Ampolini purtroppo per fortuna dico purtroppo per me perché me la son vissuta sulla mia pelle nel 2020 sono state inserite più di 200 persone quindi il volume di hiring non è venuto meno neanche durante l'anno di pandemia 200 persone che sono sono entrate o direttamente con un contratto a tempo indeterminato oppure sono state formate attraverso un academy che da noi dura circa un mese un mese e mezzo a seconda della competenza tecnica che si va ad acquisire per poi entrare con un percorso di stage della durata di 6-9 mesi per poi essere finalizzati con un contratto a tempo indeterminato ho voluto sottolineare sia la formazione continua perché all'interno del nostro portale si può accedere a 1800 corsi di qualsiasi tipo piuttosto che parlare col proprio responsabile e richiedere ogni tipologia di formazione plausibile ovviamente è un dot des per cui ciò che serve al dipendente deve servire anche a datos però di questo poi ci si parla ho voluto anche focalizzarmi su quelle che sono le certificazioni tecniche cui viene data molta molta attenzione sia nell'ottica di avere delle persone formate sia nell'ottica di poter partecipare più agevolmente alle nostre gare d'appalto abbiamo messo su un programma che si chiama un buddy program in pratica ci sono delle risorse che aiutano i nuovi assunti nel percorso di inserimento dall'utilizzo dei tool a dove carico le ore a chi mi fa questo chi fa l'altro tu è comunque sempre una persona di riferimento che ti seguo all'inizio abbiamo dei percorsi di sviluppo di carriera di attenzione a quelli che sono i nostri talenti che vengono valorizzati in vari modi non entrerei tantissimo nel dettaglio se avete poi delle domande me le fate dopo allora come vi accennavo all'inizio si conosce proprio il responsabile e si conosce quello che è il proprio tutor perché ovviamente per ogni stage c'è un tutor di riferimento e c'è un buddy che è la persona cui si può fare riferimento per qualsiasi problematica dubbio o perplessità si conosce il team con cui si lavora ovvio che attualmente siamo tutti sia remotizzati quindi le persone stanno stanno entrando da remoto quindi si conoscono in modalità virtuale mi auspico che a breve si tornerà in sede e si ricomponga di nuovo un team anche perché il fatto di lavorare in gruppo ingaggia maggiormente c'è poi una fase che si chiama welcome on board al di là della nomenclatura noi lato amministrazione del personale diamo tutte le informazioni che possono servire alla persona per poter lavorare al meglio quindi dal punto di vista proprio dell'amministrazione al che appunto tutto questo avviene il primo mese in cui la persona viene inserita in Atos e poi appunto c'è sempre questo buddy che accompagna durante il percorso dunque qua abbiamo voluto inserire qualche suggerimento su come si scrive un CV sono cose che sembrano pleonastiche piuttosto che scontate e purtroppo non lo sono per cui ricordarsi sempre di mettere i propri riferimenti tante volte non c'è la data di nascita non c'è la città di domicilio non c'è una mail non c'è un cellulare ricordatevi sempre di inserirli perché se no noi impazziamo a inseguirvi inserite le vostre esperienze lavorative vi suggerisco di essere sempre sinceri quindi data di inizio data di fine delle varie esperienze lavorative in modo molto molto sintetico ma scrivete le cose in modo veritiero le conoscenze informatiche che avete quali sono le vostre qualifiche in ambito di istruzione lingue conosciute e anche qua tante volte le persone sparano un C2 di inglese se lo sapete a livello B1 scrivete B1 se non perdete subito di credibilità in fase di colloquio l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e soprattutto sii sincero perché poi in fase di selezione comunque le cose emergono quindi sintetici e sinceri leggilo dieci volte tante volte troviamo degli orrori ortografici ecco rileggetelo e rileggetelo e rileggetelo e comunque il vostro biglietto da visita ok siate short e simple a me a noi piacciono soprattutto i CV eloquenti CV chiari magari con qualche grafico con qualche disegnino nel caso delle persone giovani io credo che una pagina massimo due siano bastevole altra cosa i recruiter in fase di selezione danno sempre un ok social per cui attenzione a cosa pubblicate in generale su qualsiasi social perché viene guardato ok sul nostro sito ci sono jobs.atos.net ci sono tutte le posizioni aperte al momento che ahimè sono davvero tantissime stiamo cercando tutte le figure che vi abbiamo sintetizzato qua non cerchiamo persone fatte finite nel senso che questo è ciò che la persona sarà a tendere noi la formeremo per essere quella figura lì quindi quello che cerchiamo noi è più un'attitudine che non delle competenze anche perché appena usciti dall'università le competenze non si possono avere si viene ancora in un mondo molto molto teorico quello che cerchiamo noi è un'attitudine alla curiosità e alla passione per la tecnologia poi tutto il resto si impara il primo colloquio viene fatto con la linea quindi con con un collega della delivery che va a testare quelle che possono essere un po' più le competenze tecniche e le attitudini il secondo colloquio viene poi fatto con noi delle risorse umane per andare a vedere più l'aspetto diciamo caratteriale piuttosto che motivazionale bocca al lupo a tutti se avete delle domande sono qua per voi allora grazie leggo nella chat una domanda di un ingegnere che chiede se dopo la laurea in ingegneria informatica è più performante per l'inserimento nel mondo vostro una ingegneria gestionale o una laurea magistrale in ingegneria informatica che significa i profili che cercate sono molto specializzati sull'ingegneria informatica oppure spaziate su un overo più ampio e date rilevo anche ad altri titoli io peraltro chiedo oltre alla laurea di ingegneria ci sono delle figure o dei percorsi formativi che sono particolarmente attrattivi per ATOS allora a differenza di altre realtà in cui ho operato il titolo di studio passa un po' in secondo piano nel senso che sì importanti le conoscenze ma ciò che conta è l'attitudine le facoltà maggiormente ricercate sono sicuramente le facoltà ingegneristiche l'ingegnere informatico ha delle competenze un po' diverse dall'ingegnere gestionale posto ciò non c'è alcun elemento stativo per inserire dei gestionali piuttosto che dei laureati in economia piuttosto che dei laureati in fisica piuttosto che dei laureati in matematica questo perché quello che si cerca è una mentalità un approccio analitico non tanto la competenza la conoscenza in sé perché poi quella si apprende da noi quindi tornando all'ingegnere credo gestionale che ha fatto la domanda assolutamente sì perché le competenze in ambito organizzativo che ha acquisito sicuramente per noi sono importanti professoressa aggiungo che uno dei nostri oggi migliori giovani manager se non il migliore è un laureato in economia proprio in Roma 3 questo ci fa grande piacere poi chiedo se il candidato ideale ha un range di età preferito da Atos oppure c'è possibilità anche per un over 30 neolaureato magistrale in economia poi potrebbe essere preso in considerazione sì assolutamente sì anche su questo a differenza di altre realtà in cui ho operato si dà molta molta attenzione alla persona per cui non è non è così rilevante l'età è importante la testa della persona che hai davanti quindi no cioè non è un non è un elemento stativo questo è molto buono molto buono per noi e io faccio un'ultima domanda e poi passo subito la parola al dottor Riguaro perché siamo un po' stretti con i tempi se la vostra esperienza di recruitment in Italia mette in luce un mismatch o meno tra quelli che sono i profili da voi ricercati e quelli che sono in uscita dalle nostre università oppure non faticate più di tanto a trovare diciamo profili idonei alle vostre esigenze allora fatichiamo tantissimo perché come tutti sappiamo l'università in Italia è ancora molto molto teorica a differenza agli altri paesi europei per cui ma io stessa io sono sono una psicologa clinica sono lavorata in psicologia clinica quando mi sono lavorata di tecnico di applicativo non sapevo fare assolutamente niente stessa cosa gli ingegneri stessa cosa gli economisti cioè l'università è ancora tanto tanto teorica il gap poi viene colmato appunto nel nostro caso di Atos dalle academy che ti insegnano qualcosa di molto molto tecnico ci sono altri paesi mi viene in mente i colleghi dell'Olanda per esempio colleghi della Svezia dove l'università magari è meno composita e meno ti dà delle conoscenze meno profonde però subito spendibili sul mercato del lavoro così non è sicuramente in Italia bene grazie questo se posso è una qualità del sistema universitario italiano tant'è che diversi miei studenti uno in particolare hanno avuto un grande successo nel sistema universitario e imprenditoriale americano e ora viaggiano a livello di profondità di contenuti il sistema universitario italiano è incomiabile e poco immediatamente spendibile ci stiamo però aprendo anche a questo secondo aspetto proprio con la professoressa Cucciovino siamo adesso per il prossimo anno accademico aprendo a un'esperienza nuova prevista dall'ordinamento italiano che è la laurea in alto apprendistato in collaborazione con Enel Italia in convenzione con Enel Italia in cui ci saranno il terzo anno sarà estremamente professionalizzante e quindi questa è un'esperienza che magari potremo anche replicare con voi visto i vostri grandi numeri in ingresso di studenti quindi noi siamo a disposizione per poter con voi esplorare questa possibilità che ripeto prevede un terzo anno della laurea triennale di ingegneria elettronica che può voglio dire un po' la sintesi dei vostri contenuti dei contenuti che voi richiedete dove voi potete giungare un ruolo molto importante e se volete noi siamo pronti per affrontare questo discorso insieme assolutamente sì sentiamoci pure bene adesso diamo da ultimo la parola a Raffaele Liguoro che ha dei problemi con il video però non con l'audio quindi ci può presentare le sue slide e gli chiediamo di contenere se possibile una decina di minuti in modo da poter poi chiudere nei tempi il nostro incontro grazie buongiorno a tutti come abbiamo visto con la presentazione di Franco Atos è impegnata in molti progetti innovativi che richiedono l'utilizzo di tecnologie trend architetturali di ultima generazione uno di questi è quello appunto che vi presenteremo ed è un progetto appunto basato su hyper automation gestito per poste italiane e il progetto si basa dal nome back office automation si inquadra nell'ambito di un percorso evolutivo di roadmap tecnologica e strategica per poste italiane intrapresa a partire dal 2018 in cui poste italiane si è dotata di una piattaforma di case and workflow management intelligente e di tool di robotica per la gestione delle attività che sono svolte dagli operatori di back office e che riguardano diverse aree di business quale l'area finanziaria quella assicurativa postale ed energetica la piattaforma che viene utilizzata a supporto per la reingegnerizzazione dei processi di business aziendali permette di recuperare in maniera automatica le informazioni che sono ad oggi gestite e fornite verso l'esterno dagli asset IT di poste italiane e permette un'allaborazione di quelle che sono le attività all'interno dei processi di business con logiche a workflow guidate e automatizzate lì dove è possibile con pianificazione predittiva e dinamica al fine di monitorare quelli che sono indicatori di performance nell'esecuzione dei processi è in questo contesto che sostanzialmente si pone l'hyper automation l'hyper automation quindi non è altro che una combinazione di tecnologie di tool di metodologie che vengono utilizzate appunto per automatizzare semplificare e gestire dei flussi di lavoro e dei processi aziendali perché l'applicazione dell'hyper automation solitamente quando si affronta l'esecuzione di un processo di business ci sono molti punti di intervento da parte di umani l'hyper automation soprattutto con i tool di robotica permettono di ridurre al minimo l'utilizzo dei dipendenti in quei punti in cui vi sono delle regole ben definite e di acquisire in maniera automatica le informazioni provenienti dall'ecosistema IT nel caso specifico di poste italiane al fine di poter riutilizzare quel capitale umano quel capitale intellettivo per altre attività a maggior valore aggiunto quindi sostanzialmente il processo di realizzazione con poste italiane di questa re-ingegnerizzazione dei processi di business parte da una fase di digital twin in cui si vanno ad analizzare con business analyst analisti funzionali quelle che sono le interdipendenze che sussistono fra le unità di business di post le funzioni aziendali ed i processi che governano l'esecuzione appunto di tali attività da un punto di vista tecnologico l'hyper automation si basa sostanzialmente su due stream fondamentali che sono l'intelligent business process tool ovvero appunto le piattaforme che permettono di automatizzare l'esecuzione dei processi di business tramite programmazione cosiddetta low code ovvero la possibilità di poter disegnare senza essere a conoscenza di uno specifico linguaggio di programmazione di poter disegnare e quindi mettere in esecuzione un vero e proprio processo di business end to end ed infine appunto i tool di robotica che invece permettono di automatizzare e di effettuare elevati volumi di attività basati su delle regole ben definite che di solito come dicevamo sono svolte da persone ma che tramite appunto questi tool possono essere simulati al fine di poter utilizzare quelle persone per attività a un valore aggiunto maggiore infine il tutto appunto confluisce nell'utilizzo di tool di intelligenza artificiale e di process mining che permettono di andare in maniera real time ad individuare quelli che sono key performance indicator sull'esecuzione appunto del processo al fine di poter riadattare dinamicamente l'esecuzione dei processi e quindi essere sempre speculare a quelle che sono le esigenze di business che ovviamente variano nel tempo questo è quello che noi facciamo per poste italiane quindi ricopriamo sia la fase di analisi funzionale quindi con il business di riferimento c'è un team di analisti che fotografa la situazione esiste dei processi mediante linguaggi standard di documenta propone appunto la versione to be quindi il desiderata automatizzato del cliente e mette in lavorazione quello che è il desiderata con i requisiti a corredo che sono stati appunto recepiti dal business dopodiché appunto si passa ad una fase di testing interno e messa in esercizio dei processi re-ingegnerizzati la metodologia utilizzata su questo progetto per condurre sostanzialmente il ciclo di vita del software è una metodologia agile basata ovvero iterativa quindi con un roll out quindi distribuzione di questi nuovi processi in produzione con dei tempi molto stringenti parliamo di circa due processi re-ingegnerizzati in produzione ogni due mesi ecco dicevamo che per poter effettivamente misurare quelli che sono i benefici poi che si hanno con l'attuazione di questi tool quello che è evidente è che per i processi che sono stati re-ingegnerizzati si è avuto una drastica riduzione di utilizzo di capitale umano FTE appunto rappresenta un indicatore di performance e riguarda appunto il numero di risorse che sono allocate per una specifica attività ricerca titoli e tesoreria ad esempio sono due processi che opportunamente re-ingegnerizzati con hyper automation che ha portato per quanto riguarda ricerca titoli ad una riduzione di personale da 60 a 10 e un incremento di numero di pratiche quindi di istanze di processo che vengono eseguite da 120 a 1000 al mese quindi si ha sia un beneficio dal punto di vista dell'esecuzione tempo di realizzazione dei task di processo che riduzione di capitale umano che viene poi riallocato e riassegnato ad altre business unit o comunque per attività che hanno maggiore valore aggiunto e che necessitano dell'apporto della cognizione umana i processi di business alla fine del programma che dovranno essere completamente re-ingegnerizzati sono 35 e riguardano praticamente tutte le aree di interesse di poste italiane come ultima slide presentiamo un prospetto architetturale di quella che è la piattaforma Appian che viene utilizzata su questo progetto la piattaforma Appian appunto è quella piattaforma che permette di introdurre degli elementi di intelligenza artificiale nell'esecuzione dei processi di business ed in particolare tale piattaforma si caratterizza di alcuni componenti core che non richiedono in prima battuta una grande conoscenza tecnica in quanto la conoscenza principale nell'utilizzo appunto di tale piattaforma è suddivisa in tre layer sostanziali la user interface per cui appunto si richiede metodologie di user experience e di disegno delle interfacce la parte di case workflow management invece richiede una conoscenza anche relativa a quelli che sono gli standard realizzativi dei processi di business ed una parte di integrazione ovvero di tutte quelle tematiche che sono afferenti alla possibilità di poter recepire e recuperare le informazioni dei sistemi esistenti presenti appunto in poste italiane senza dover impattare il sistema stesso questo che cosa significa che per i sistemi datati i sistemi legacy si dice ovvero quelli che non hanno disponibilità di interfacce programmatiche ma che solitamente sono basate su terminali come possono essere gli IBM 3270 ecco per questi le integrazioni visto che non possono essere applicate con i più moderni pattern di integrazione ad esempio web service o web API viene realizzata l'integrazione tramite i robot i robot simulano le attività sui terminali che vengono effettuate dagli operatori e portano a termine il task che nella versione precedente invece erano portati a termine dai dipendenti di poste italiane bene buongiorno se ho ancora due secondi risponderei alle domande che sono state rivolte a me va bene? senz'altro ringrazio molto il dottor Liguagli che ci ha fatto entrare diciamo nel vivo di ciò che fa Atos veramente interessante stimolante penso come ambiente di lavoro per questa grande dinamicità anche dei contenuti prego dottoressa Allora stavo leggendo allora laureati in giurisprudenza laureati in giurisprudenza possono operare vabbè da noi HR quindi per tutto quello che può essere l'aspetto più legato a contenziosi piuttosto che diritto sindacale piuttosto che GDPR laureati in giurisprudenza possono operare nella compliance perché no controllo di gestione non tutto ciò che può essere secondo me legato agli organi di staff per cui nulla vieta che un laureato in giurisprudenza possa possa anche entrare entrare al marketing piuttosto che ovviamente colmato il gap andare poi a operare nella delivery e quindi utilizzare le competenze più più tecniche più tecniche non so se sia stata esaustiva per capire appunto se i profili legal possono trovare un sbocco in realtà come questo io direi di sì perché in realtà come queste pongono tutta una serie di questioni trasversali prima fra tutti quelle proprio della cyber security della gestione dei big data della riservatezza dei dati enorme quindi insomma direi che la risposta è quasi scontata sì sicuramente per la tutta la parte legata alla cyber security al GDPR alla compliance tenga presente tenete tutti presenti che l'attenzione alla sensibilità dei dati adesso è altissima per cui benvenga tutta la competenza gius lavoristica ovviamente abbiamo un ufficio legale dimmi Franco scusami e poi ovviamente abbiamo anche un ufficio legale abbiamo un ufficio legale ok corretto sto pensando ad altri ambiti però sì un profilo comunque di retaggio umanistico può essere direzionato in diversi ambiti noi ci teniamo molto perché la nostra idea di questi incontri è anche quello di dare una visione a tutti i nostri studenti noi abbiamo 12 dipartimenti copriamo tutte le aree diciamo anche quelle umanistiche abbiamo visto in precedenti occasioni come anche aziende super tecnologiche come le vostre in realtà ricercano profili diciamo più che noi classifichiamo di tipo umanistico che anzi c'è una riscoperta di questi profili proprio all'interno di realtà come vostre le vostre perché diciamo il rapporto anche uomo-macchina probabilmente è una delle sfide principali del futuro e quindi ci vogliono gli studiosi che sappiano inserire all'interno di contesti di questo genere anche delle competenze più di ambito umanistico addirittura filosofico io ringrazio molto non so se rispondo all'altra domanda si può mandare il curriculum anche se non si è ancora laureati assolutamente sì guarda se dato un'occhiata al sito abbiamo delle opportunità di stage sia curriculare che estracurricolare quindi quelle curriculare si possono assolutamente fare durante il percorso di studi trovate tutto sul nostro sito se volete mandarci un cv io provo a scrivervi su questa show conversation immagino sia ok vi scrivo l'indirizzo mail del collega che segue direttamente gli stagio va bene così potete avere un contatto diretto ok va bene more information selezione.it benissimo lì in alternativa il collega è Vincenzo Coda vi mando vi scrivo l'indirizzo di posta stiamo stiamo cercando sia sulla sede di Roma che sulla sede di Napoli che sulla sede di Milano e di Bologna quindi le opportunità sono sono tante benissimo non so se ci sono altri altri interventi altrimenti io chiederei al professor Toscano se vuole chiudere e salutare diciamo tutti gli intervenuti io ringrazio da parte mia moltissimo Franco Prampolini tutti i relatori la dottoressa Rangone il dottor Liguori e poi voglio lanciare sia agli studenti che ai colleghi l'idea che questi incontri non si chiudono qui insomma aprono un rapporto con i nostri partner i nostri stakeholder per cui vedo che già sono state fatte delle segnalazioni del corpo docente dell'interesse a contattare appunto i vostri uffici per delle opportunità o per l'approfondimento di ricerche diciamo e quindi relazioni di questo tipo sia per i nostri studenti che attraverso l'ufficio placement potranno rimanere in contatto con Atos attraverso i nostri canali e il nostro sito di Ateneo sul career service grazie grazie Alessandro grazie a te Silvia mi unisco ai ringraziamenti che sono dovuti ma altrettanto sentiti è stato abbiamo trascorso quasi due ore un'ora e mezza insieme estremamente interessante stimolante siamo felici che l'Italia ospita un'azienda europea come Atos ed è protagonista in controtendenza assume e gioca un ruolo importante nel mondo sempre più significativo della tra virgolette informatica chiudiamo con 110 studenti che ancora ci stanno seguendo abbiamo avuto picchi anche di circa 180 studenti un grande successo questa però deve essere solamente secondo me l'inizio deve rappresentare l'inizio di una collaborazione insieme abbiamo visto la possibilità per esempio di pensare una laurea in alto apprendistato insieme attività di ricerca che possono nascere tra il nostro corpo docente e voi stage da parte dei nostri studenti quindi ci sono tante cose che possiamo fare insieme io veramente sarei contentissimo di farle insieme con voi ancora grazie e arrivederci a presto grazie grazie anche da parte nostra arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti